Una caccia al tesoro dedicata all'affido, ma anche alla voglia di stare insieme, giocare a contatto con la natura, coccolando animali docili, simpatici e a loro volta in affido. È la singolare iniziativa che il servizio del distretto di Tardate ha organizzato insieme all'associazione Famiglia Insieme. È l'occasione per parlare di affido, ma anche di accoglienza, di gioco, di stare insieme in compagnia di questi asinelli che anche loro stanno vivendo l'esperienza dell'affido. Appuntamento sabato 15 aprile a Castelsepero, nel campo Orecchie Lunghe di Via Monviso, a partire dalle 14.30 con una formula inedita e un obiettivo ben chiaro, diffondere la cultura di un gesto basato sull'empatia. L'affido familiare è un aiuto che delle famiglie danno a dei bimbi o dei ragazzi da 0 a 18 anni che si trovano in una situazione di difficoltà, per cui la loro situazione viene segnalata ai servizi e i servizi, in accordo con anche il terzo settore, quindi con le varie associazioni di famiglie, cercano una risorsa che temporaneamente può essere per loro un luogo sicuro. Fondamentale ancora una volta la sinergia col terzo settore e con una realtà che da anni si occupa di bambini, ragazzi, famiglie e futuro. Insieme all'accoglienza dei bimbi abbiamo accolto anche tre asinelli in affido e con loro vogliamo organizzare attività ricreative, giochi, proprio perché i nostri asinelli hanno questo carattere molto docile, sensibile e sono proprio predisposti a stare insieme ai bambini, giocare con loro e farsi tanto coccolare.